A poco più di due mesi dal disastro alluvionale che si è scagliato sulle province di Pesaro Urbino e Ancona, arriva un aiuto concreto dal governo. 400 milioni di euro. E questa la cifra che ieri sera ha stanziato il governo Meloni in seguito alla richiesta dello stato d'emergenza inoltrato diverse settimane fa. 200 milioni sono stati stanziati con decreto, altri 200 con legge di bilancio. Soddisfazione da parte del governo regionale che trova una corposa iniezione di fondi rispetto a quella che è comunque una stima di un miliardo di euro per somme urgenze e ripristino di infrastrutture nelle zone alluvionate. Sicuramente per l'alluvione i danni sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto una richiesta al governo perché questa non sia considerata una semplice alluvione. È piuttosto un'onda anomala che le copiose piogge che cadono nel nostro territorio in sei mesi, sono accadute invece in due ore di tempo, il che ha provocato un'onda in alcuni casi alta alcuni metri che ha travolto tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada, questo nella valle del Metauro, nella valle del Cesano, del Misa e del Nevola. Il provvedimento è stato accolto con grande favore dal sidco di Cantiano Alessandro Piccini che in tempi recenti aveva lamentato la lentezza dei ristori che zavorrano la ripartenza di un tessuto produttivo messo in ginocchio. È un provvedimento che restituisce fiducia a Cantiano dopo una settimana che ha registrato confortanti segni di speranza. Questo weekend è stata infatti riaperta la storica panetteria del centro Imoretti dopo una raccolta fondi che ha convogliato la solidarietà di panificatori da tutta Italia. Ieri invece è stata riaperta la filiale cittadina della BPR Banca imprimendo un ulteriore segnale di ripartenza.